PAPÀ! Camille! Ha l'Alzheimer! E la sua memoria non ritornerà mai, se ne sta andando! Per sempre! Non è vero! Non è vero! Perché alcune cose gli stanno tornando in mente! Lo so che è una malattia terrificante! Ma spingerlo verso il suo passato evidenzia solo ancora di più quello che ha perso! Non riesce a reggere questi pezzi di vita passata tutti mischiati insieme! Sta cercando di trovare un senso, ma non ci riesce! Perché proprio non può, fisicamente! Ma tu che cosa ne sai quello che sta cercando? Forse sta proprio cercando te, Camille! Non capisci? Vuole che tu trovi te stessa! Ma tu non sembri voletelo concedere! Ma tu che cosa ci fai qui? Eh! Io posso andarmene quando voglio! Ecco, io no invece! Eh, dovrai per forza a un certo punto! Fidati! So cosa vuol dire perdere qualcuno! Prima lo capisci, meno sarà difficile! Ma la tua è tutta un'altra storia! Tu non hai perso un genitore? No! Un genitore no! Ma ho perso un figlio! Volevi sapere cosa è successo quattro euro a tre anni fa, no? Ecco ti servita! Tu non sei l'unica ad aver perso una persona cara, Camille! Ma così stai perdendo anche te stessa! E ti assicuro che so com'è! Dove stai andando adesso? Ah, ovest! Ok papà, ok! Vado a cercare Camille! Avevano tutti ragione! E se la trovo, lei capirà! Metterai tutto a posto! Papà, non posso mettere tutto a posto! Ma io devo mettere tutto a posto! O lei non capirà che non riuscivo a trovarla! Il suo cuore è già stato spezzato così tante volte! Chi? Non saprà mai quanto le volevo bene! A chi vuoi bene? Quanto le voglio bene! A chi vuoi bene? A te! A te voglio bene! Ti voglio così tanto bene! Te lo dirai? Te lo spiegherai a Camille? Sono io! Guarda! Sono io Camille! Sono io! No, tu non sei Camille! Sì! No! Invece sì papà! Sono io! Sono tua figlia! Guarda! No! Lassami! No, io non so chi sei! Smettila di seguirmi! Smettila di seguirmi! No! Smettila di seguirmi! Smettila! Vattene via! Vattene via! Io non so chi sei! Stammi lontano! Vattene via! 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 Vattense! poolzelru Grazie.